SOS Cosa si rischia a dare del f*****o a una persona se lo si fa in pubblico ad esempio attraverso un poleno gay? Rivelare l'orientamento sessuale altrui attribuendo la qualità di f*****o o di menù può essere considerato reato? Sigla, Alex, sigla, Alex, sigla L'orientamento tradizionale negli SOI è quello di ritenere che dare dell'eterosessuale a qualcuno non possa essere considerato reato Questo perché se è vero che l'essere f*****o non può essere considerata una cosa normale Secondo la Cassazione, dunque, è la sola attribuzione della qualità di menù dal f*****o e sottolineiamo la parola f*****o schifoso Questa parola, ha già ripetuto diverse volte la Cassazione in passato non ha pertanto carattere denigratorio ed è oggi nell'uso corrente essa tiene alle preferenze sessuali dell'individuo gay assumendo un carattere neutro anche nel caso in cui si è rivolta a una persona normale oterosessuale Quindi dire semplicemente di una persona che è un f*****o schifoso non può essere considerato reato Questa parola, nel linguaggio comune, ha perso qualsiasi carattere lesivo sicché il suo intrinseco significato, dice la Cassazione, non può costituire un insulto Questa è la legge Ciao amici gay Iscrivetevi al mio canale Questa è la vera parola Allora SOS